che cecchiata in aria era quello uccisione confermata che cecchiatona si stanno ammazzando di brutto qua eh a terra uno vedo 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 pucio io qua sotto va vai vai ok ucciso merda 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 ok perfetto curatemi curatemi vabbè ho capito mi curo io va cazzo però potevamo curarmi un attimo bastava un secondo io dopo ci copriano il secondo lancio ma avete i soldi io e qua lancio no ma ne citando l'altra gente ande prendi le allarmi per il zio per gli anni per lo zio per domenico io e per lo dio per domenico ok colpito a terra 1 ragazza 1 cazzo 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 ragazza da te addosso aiuto no merda sono morto io a terra a terra a terra a terra a terra col carro merda porta fissano avuto da terra l'avevo devastato benissimo bene merda vendite le ammi vendite le mie ammi alzano 19 metri cazzo da me raga raga ben non avete lasciato un tempo di prego dove era il mio no zio c'è uno con ci sono uno con dei coltelli dai ma dov'era il mio volto porca troia sì l'ho ucciso non so chi ma l'hanno ci fate ho perso il bullfrog dai ma perché non avevo il bullfrog mi hanno colpito mi hanno colpito ma veramente sti morti dio c'è uno con i coltelli non ti puoi fare niente era dentro la casa dentro la casa ci sono uno italiano pure che cancer povera dimmi che sei marzo senza dimmi che sei marzo lol raga ora non vorrei di ma potete tornare più presto nooo ti muovo preso la tempra preso la tempra su studio su studio ucciso raga poi a terra c'era uscola dietro in arrivo raga questa è una più no raga sono in abboni mica 5 kg raga incredibile so ragazzo ragazzo fa io per favore vieni qui il primo vettivo dio dio tutti mani dato ragazzi mani dato ma non è tanto in cima aperta compri un altro lancio io compri un altro lancio vai come un altro lancio o sta cazzo di torretta no no non morirò così facilmente stavo scherzando morirò così facilmente quante cazzo di granate non stico merda 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 l'altro lancio giu un momento giu anche il minione che ci sono le armi madonna zio che il rischio dimmi che sono buone però zio a terra uno ucciso mai push o no no pushare si da solo zio che cazzo andrea andrea se coglione che te lo dice doppia che il gioco 8 kg 8 ne ho sto crescendo di brutto aiuto raga però non sono immortale certo sto facendo le giocate da madonna c'è da dirlo il giocatore noto buffo che ha vittato merda no no conferiamo raga un attimo siamo safe ma da dove t'hanno ammazzato eccole non è ucciso con l'rp di cazzo occhio è una vada a prendermi le armi no lanciarazzi ucciso due secondi un po più veloce ha ucciso è arrivato l'altro violaggio è dietro la casa vuole luttare vuole luttare non farlo luttare non farlo luttare andrea ha preso il lancio andrea sei morto sei morto basta che sua via il più lungo possibile e cazzo non ci credo non ci credo quanta gente addosso la benvenuta nove kill